Domenica in, Mara Veniera abbandona lo studio, troppa commozione. Durante la puntata di oggi, 13 gennaio, di Domenica in, in onda su Rai 1, Mara Veniera ha ospitato nuovamente Giampiero Galeazzi Durante la proiezione di un video nel quale la conduttrice e il giornalista sportivo duettano sulle note di In ginocchio da te di Gianni Morandi, la commozione è stata troppa e Mara Veniera ha abbandonato commossa lo studio Domenica in, il video commuove troppo Mara Venier che non regge all'emozione e abbandona lo studio in diretta Si è emozionata e commossa tante volte in diretta Mara Venier, alla conduzione del programma di Rai 1 della Domenica Domenica in Questa volta però per lei sembra essere stato diverso dalle altre. Ospite della puntata è stato il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi ed è stato proprio con lui che Mara non ha retto, l'emozione è stata troppo forte con l'amico Bisteccone I due infatti hanno ricordato insieme la storia della propria amicizia e i vari sketch dei quali sono stati protagonisti con Stefano Masciarelli e Andrea Roncatu alla metà degli anni 90 L'apice dell'emozione è stato poi per Mara Venier il momento in cui è stato mandato in onda un duetto tra la conduttrice Galeazzi sulle note del brano in ginocchio da Teddy Gianni Morandi Il video in questione, mandato in onda in diretta nel corso della puntata, ha turbato a tal punto Mara Venier, che la conduttrice, travolta dalla commozione, ha ritenuto opportuno allontanarsi dallo studio per alcuni minuti, onde evitare che tutti i telespettatori partecipassero a questo momento Le telecamere si sono concentrate a questo punto sull'ospite e l'orchestra. Tornata poi in studio, ancora con le lacrime agli occhi, la conduttrice ha presentato l'ingresso, nei panni dei Blues Brothers proprio di Stefano Masciarelli e Andrea Roncato Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like